look giovane e sottile prestazioni e lunga durata della batteria così si presentano i nuovi pop 4 e pop 4 plus smartphone top di gamma della serie pop di alcatel scopriamo insieme connettività 4g dual sim memoria espandibile display hd ips sistema operativo android 6.0 marshmallow doppio flash posteriore e anteriore con soli 7,9 mm di spessore pop 4 e pop 4 plus sono due smartphone dall'aspetto moderno ed elegante ideali per ogni occasione sia per il lavoro che per il tempo libero questo grazie al supporto dual sim in pratica potrete sfruttare due sim e quindi due numeri di telefono diversi sullo stesso smartphone lo schermo è per entrambi i modelli dotato di risoluzione hd e tecnologia ips da 5 pollici per il pop 4 e da 5,5 pollici per il pop 4 plus la velocità di navigazione è garantita dalla connettività 4g lte mentre l'autonomia è affidato una batteria da 2.500 mAh per entrambi i modelli la fotocamera posteriore è da 8 megapixel mentre quella frontale è da 5 megapixel vera novità è il doppio flash quindi oltre ad avere quello supporto della fotocamera posteriore ne troviamo uno per la fotocamera frontale mai più scatti e selfie bui anche in condizioni di scarsa luminosità la memoria interna è espandibile fino a 32 gigabyte grazie allo slot per schede micro sd il sistema operativo è android 6.0 marshmallow veloce ed affidabile si coniuga alla perfezione con l'hardware di pop 4 e pop 4 plus incentrato su un potente processore quad core alcatel pop 4 e pop 4 plus snelli versatili e potenti gli smartphone per tutte le occasioni e grazie a tutti grazie a tutti